Zone a traffico limitato, a fasce orarie in centro storico per accontentare sia il comune che vuole pedonalizzare che i commercianti timorosi di veder calare gli affitti. Potrebbe essere questo il punto in cui far incontrare le posizioni finora lontane di Cassugana e negozianti. Con questa proposta io sono andato dai commercianti in questi giorni. Per la verità era una cosa che avevamo sempre detto. Con l'apertura dei varchi elettronici si poteva benissimo decidere l'orario di apertura e di chiusura dei varchi, quindi delle ZTL. Possiamo benissimo anticipare questa sperimentazione e partire già da subito. Credo che questo sia un buon viatico per realizzare quel progetto sul quale l'amministrazione crede fortemente e che intende portare avanti. Il tour di Grigoletto nei negozi delle zone interessate dalla pedonalizzazione proseguirà anche lunedì e martedì. Due giorni in più del previsto perché molti commercianti hanno chiesto di incontrarlo. Mercoledì porterà a sindaco e giunta risultati e conclusioni di queste consultazioni. L'idea di zone pedonali a tempo sta piacendo ma per definirne orari e modalità l'amministrazione intende convocare una riunione con le categorie. Non intendo andare al tavolo con già un'idea precostituita. Intendo proprio chiedere ai commercianti di formulare delle proposte, loro che tutti i giorni vivono direttamente in vie e piazze interessate alle ZTL e quindi con loro confrontarmi su possibili fasce orarie che ricordo possono essere anche nel tempo modificate. D'altro canto, sottolinea il vice sindaco, il messaggio che comune ed esercenti vogliono far passare è il medesimo. Basta lanciare il messaggio che Treviso è inaccessibile, che Treviso è una città chiusa perché questo non fa altro che allontanare turisti, allontanare cittadini di altri centri verso il centro storico di Treviso e questo fa del male a tutti. Dobbiamo dare invece l'idea di una città aperta, fruibile e ricca di opportunità.